L'appuntamento è a domani, sabato 10 ottobre alle 18 nel santuario di Santa Maria delle Grazie di San Giovanni Rotondo. Si terrà la traslazione del corpo di frate Daniele Natale. Il servizio. Si svolgerà sabato 10 ottobre alle ore 18 nel santuario di Santa Maria delle Grazie la celebrazione eucaristica per la traslazione del corpo del servo di Dio, frate Daniele Natale, figlio spirituale di Padre Pio, in un apposito ambiente adiacente alla navata di destra della chiesa. La decisione autorizzata dall'arcivescovo diocesano Monsignor Michele Castoro e dalla Congregazione delle Cause dei Santi è stata presa per consentire ai numerosi estimatori del frate Capuccino una maggiore accessibilità alla sua tomba, attualmente situata all'interno di una cappella privata del cimitero di San Giovanni Rotondo. La fama di santità suscitata dalla vita esemplare di questo discepolo di San Pio da Pietrelcina ha indotto le autorità ecclesiastiche ad avviare il 7 luglio 2012 l'inchiesta diocesana sulla vita e sulle virtù eroiche di frate Daniele da San Giovanni Rotondo al secolo Michele Natale, morto il 6 luglio 1994. Si tratta del primo passo del processo di beatificazione e canonizzazione. In questi tre anni il vice postulatore frate Mariano Di Bito e tutti gli ufficiali nominati per l'inchiesta hanno lavorato alla cremente ed è prevedibile che questa fase possa concludersi nel prossimo anno con la consegna di tutta la documentazione e le testimonianze raccolte alla Congregazione delle Cause dei Santi dove comincerà un nuovo percorso i cui tempi non sono prevedibili. La celebrazione del 10 ottobre prossimo sarà presieduta da frate Francesco Colacelli ministro provinciale dei frati minori capuccini della provincia religiosa di Sant'Angelo e padre Pio delegato dell'arcivescovo per la traslazione. Al termine della liturgia la bara del servo di Dio sarà collocata nell'oculo appositamente scavato nel pavimento nell'area dell'ex Battistero che sarà accessibile nei giorni seguenti al termine degli ultimi lavori di rifinitura.